A pochi giorni dal via all'offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa San Paolo, l'amministratore delegato di UBI, Victor Massia, torna sulla decisione del Consiglio d'amministrazione della banca di respingere l'offerta. Fino al 28 luglio gli azionisti UBI potranno decidere se aderire al piano di intesa o se rimanere soci dell'istituto guidato da Massia. Come impatterà l'offerta di intesa? Ovviamente è difficile a prevedere. Se dovesse avere successo, certo molti territori non sarebbero più serviti da UBI, peraltro dalla stessa intesa perché proprio nei territori lombardi in particolare, Intesa a sua volta ha previsto di cedere 500 filiali a BIPER. Il nostro Consiglio si è espresso sulla non convenienza e in maniera argomentata sull'offerta. È importante leggere sia la documentazione di intesa che la documentazione emessa dal nostro Consiglio per farsi una idea approfondita. Mi piace a titolo esemplificativo fare riferimento però a una ricerca svolta dalla società SVG che ha chiesto a differenti tipologie di imprenditori, i piccolissimi, i piccoli, i medi e i grandi, quale era secondo loro un'adeguata conformazione e configurazione del mercato bancario ed è emersa con grande forza la scelta di avere adeguata competizione. Era intuibile, era ovvio, ma in qualche modo ci sono sopra dei numeri adesso. Oltre il 60, in alcuni casi oltre il 70% delle aziende vuole avere la possibilità di scegliere fra diversi concorrenti sani. Intesa è una banca molto sana e molto grande, ma anche Ubi è una banca sana, Intesa stessa lo riconosce. Gli imprenditori dicono vogliamo più di una banca nei nostri territori. Gli imprenditori dicono di sì che sono sopra dei rischi, la città sì che sono sopra dei rischi, la città sì che non sopra dei rischi,